e anche il tuo amico doc toccando il grillo ma sicuro che era io con chi sono tu sei con il nostro spazio questo è il mio test se fosse fosse bianca fiscaticcio altro muro il muro cavi io to the game abbiamo già rotto quindi non mi faccio partendo per l'opera portano via pronti torri a mazzurro è bello abbiamo proprio cliccato di farlo risponde quando c'è l'idea si è messo l'ignore freggio muro il pet tranquillo tranquillo perchè arrivano con tutta calma ora c'è muro 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 attenzione che facciamo facciamo avvicinatevi non vicino al muro perchè sennò vi sbalza state pronti eeeh rohar dove siamo sulla luna perfetto adesso nell'angolino chi c'ha corruzione va in mezzo e gli altri sull'angolino anche tu si lo spacco io attaccabili adesso attaccabili cerchioni fuori eee via andiamo da l'altra parte frecce attenzione alle frecce bravi non spaccare perchè tanto lo rifa eh certo state sul boss state sul boss chi c'ha il coso va sul land ok corruzione sul land gli altri sul boss ancora libero 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 vai tutti sul land contro il muro le frecce via cerchioni via cerchioni cerchioni ok attraversare stiamo nell'angolino urla luca via le cerchioni via frecce contro il muro erojawis contro il muro killer Contro il muro ragazzi che se si chiude si chiude contro il muro Sì sì no tengo io primo giro faccio anche il secondo Pronti che si nasconde Pronti a nascondersi? Compritevi tutti 1-1 in ogni portale Guardate ho slisciato Cazzo di un millimetro guarda Ho visto in diretta E' un pelo di figa Occhio ricordatevi che faccio Sono morto sulla circunferenza Sì 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 Ok Sì 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 Grazie a tutti.